Da domani 5 novembre e fino al 3 dicembre, tutta Italia si calerà in una nuova quotidianità scandita da un nuovo DPCM del governo. Ma questa volta il tricolore italiano cambia e avrà l'effetto cromatico rosso, arancione e verde in base all'incidenza geografica dei contagi da Covid-19 sul territorio. Nuove misure e nuove limitazioni che la provincia di Pesaro Urbino e le Marche vivranno da uno scenario meno restrittivo, quello di zona verde rispetto alle zone arancioni e rosse che catalogheranno i livelli di rischio di propagazione della malattia sulla base delle ultime stime medico-sanitarie. Misure più morbide che obbligheranno comunque a modificare alcune abitudini, perché dalle 22 alle 5 del mattino anche nelle Marche scatta il coprifuoco. In questa fascia oraria notturna tutti gli abitanti della regione dovranno restare nelle loro abitazioni. Sarà vietato uscire di casa salvo improrocabili e comprovate urgenze per motivi di salute o lavoro. Altra novità sarà la chiusura dei centri commerciali nel weekend e nei giorni festivi. Faranno eccezione i negozi presenti all'interno dei centri commerciali dedicati alle attività essenziali come farmacie, alimentari, edicole e tabacchi. Rispetto al penultimo DPCM che prevedeva già la chiusura al pubblico di discoteche, cinema, teatri e sale da concerto, da domani si aggiunge anche la chiusura di musei e la sospensione di tutte le mostre. Vengono chiuse anche sale giochi e sale scommesse. Sospesi anche tutti i concorsi, eccezione fatta per quelli con valutazioni dei candidati in via telematica. In ambito lavorativo, nelle pubbliche amministrazioni e negli uffici andranno adottate modalità di smart working nelle percentuali più elevate previste dalla legge. Come già imposto da qualche giorno, ci sarà anche la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. Modalità che nelle marche vale anche per l'università come legiferato dall'ordinanza regionale del governatore Francesco Acquaroli che ha anticipato di qualche giorno il DPCM abbassando anche al 50% la capienza nel trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda le altre scuole, nelle zone verdi l'attività didattica ed educativa resterà in presenza nel primo ciclo di istruzione e nella scuola dell'infanzia.